ciao il tuo capo appassionato di spumanti decide di invitare a casa sua te e i tuoi colleghi per festeggiare i risultati ottenuti in azienda e allora tu hai proposto di regalargli uno spumante che possa incuriosirlo ma che cosa puoi acquistare io ti consiglio ferrari riserva lunelli metodo classico millesimato è un millesimato di straordinaria struttura un affascinante sintesi tra innovazione e tradizione è prodotto con un'accurata selezione di uve 100 per cento chardonnay coltivati nei vigneti di proprietà dell'azienda ferrari lunelli alle pendici dei monti del trentino è lavorato in grandi botti di rovere e di rovere austriaco e riposa in bottiglia sui lieviti selezionati per almeno sette anni tutto ciò gli dona un colore giallo carico con dei riflessi dorati meravigliosi e un complesso aroma floreale che alterna note agrumate a note di frutta esotica immancabili sono le note di crosta di pane la crosta di pane appena sfornata bella fragrante accompagnate anche però da sensazioni speziate e da sentori di miele e di croccante alla nocciola quindi è un prodotto veramente complesso e molto ben strutturato è quindi un metodo classico di grande intensità e persistenza che incontra gli appassionati ed è ottimo come aperitivo in abbinamento magari è una bella focaccia col burro e le acciughe di cetara oppure ai maltagliati di pasta con ragù di vitello è il regalo ideale per un capo esigente se vuoi riceverlo comodamente a casa tua clicca sul tasto acquista grazie ciao ciao